Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e a questo nuovissimo video si è concluso da non molto il mese di novembre e quindi è giunto di tirare le somme sui volumi, sulle novità che ho acquistato e che ho letto e cercare di capire quali vale la pena magari anche consigliarvi e quali invece lasciare da parte e spendere i soldi magari in qualcosa di meglio. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sui social che trovate qua sotto in descrizione. Ora andiamo con una brevissima sigla e andiamo a vedere quali sono stati le novità che ho acquistato, quali vi consiglio e quali no. Iniziamo subito da Undead Unlock, lo vediamo qua, un volume che personalmente mi ha divertito, trama totalmente inesistente, non c'è nulla di serio qua dentro, quindi cioè si prende proprio come un normalissimo manga d'accesso, qualcuno li chiama così e su questo sono pienamente d'accordo, però sinceramente a me ha divertito. Prediente parla della storia di lui che semplicemente non può morire e di lei che invece fa morire chiunque tocchi, porta sfiga, li porta delle disavventure che portano quasi sempre alla morte, poi dipende anche dal tocco, dal sentimento che lei prova e tanto altro. Lui una volta che ha scoperto questo straordinario potere di questa ragazza decide che il suo obiettivo finale è quello di andarci a letto perché con un contatto fisico del genere, soprattutto se per caso arrivano anche alcuni sentimenti, sicuramente riuscirà a porre fine alla sua vita. Quindi ragazzi, ripeto, è un manga assolutamente no sense, però personalmente se qualcuno mi dovesse chiedere un manga da farsi due risate, questo potrebbe rientrare nella lista dei consigli. I disegni anche non sono assolutamente nulla di eccezionale, quindi è consigliato a una cerchia ristrettissima di pubblico e di lettori, ma per quella piccola cerchia che gli interessano determinati titoli è uno dei manga migliori che potreste acquistare. Poi andiamo avanti con Star Wars, Luke Skywalker, le leggende e prima cosa che notiamo è quello dell'apertura, è un'apertura all'occidentale nonostante ci sia scritto il manga qua sotto. Anche in questo caso non mi sento di consigliarvelo a meno che non siate dei fan sfegatati del mondo di Star Wars, sono semplicemente dei capitoli autoconclusivi scritti da autori diversi che vanno a narrare delle leggende sul personaggio di Luke Skywalker. Naturalmente eventi totalmente scollegati all'universo di Star Wars che siamo abituati a conoscere attraverso i film, i libri e quant'altro. Un piccolo approfondimento, forse neanche perché essendo scollegati non va ad approfondire niente in realtà, diciamo che sono carine, sono simpatiche, ma niente di più. I disegni ovviamente variano a seconda dell'autore che è andato a scrivere i rispettivi capitoli, ma in ogni caso è un volume appunto dedicato solo ed esclusivamente ai grandissimi appassionati della saga che vogliono avere un pochettino tutto quello che riguarda l'universo cinematografico e non di questo titolo in collezione, in libreria. Ora arriviamo invece a due cofanetti e partiamo da Bunny Girl Senpai e Petit Devil Koai. Al momento sono sincero, ho letto soltanto la prima delle due saghe che sono contenute all'interno di questo cofanetto completo e vi posso dire che in questo caso invece mi sento di consigliarvelo. Vediamo questo ragazzo che incontra una ragazza vestita da coniglietta all'interno di una libreria. Inizialmente si pone mille domande sulle motivazioni anche perché lei è un personaggio molto conosciuto già dalla tenera età e aveva fatto delle comparse in televisione, quindi in tantissimi la conoscono, ma in quel preciso istante sembrerebbe che solo lui riesca a vederla e solo lui si riesca a rendere conto di quello che sta succedendo. La storia ruota appunto intorno a questi due protagonisti alla ricerca di una motivazione del perché pian piano lei stia iniziando a svanire sia nei ricordi delle persone ma sia proprio dal punto di vista fisico, tant'è che quando lui parla con lei spesso ci viene mostrato come se parlasse da solo. Quindi è una storia molto interessante che va ad entrare anche nell'animo umano, che va a cercare di esplorarne un pochettino la psicologia dell'essere umano e poi andremo pian piano a scoprire che cosa c'è dietro questo mistero. Non ho ancora letto la seconda parte come vi ho detto, però mi auguro che sia più o meno diciamo della stessa elevatura perché mi piacerebbe veramente molto andare avanti con una storia simile. L'altro cofanetto che ho recuperato il mese scorso è quello di Gekkyman, come ho creato Devilman e già dal titolo andiamo a capire che il protagonista dell'intera serie è senza ombra di dubbio Go Nagai in prima persona. Infatti all'interno possiamo trovare lui che spesso si va a confrontare con la casa editrice, con la casa di produzione dell'anime e vengono approfonditi tantissimi aspetti per quanto riguarda invece la versione cartacea. Vi faccio un esempio su tutti, l'avevo detto anche durante il video acquisti, lui non aveva mai immaginato di poter fare un demone dalle fattezze femminili, quindi Siren, il produttore dell'anime, gli ha presentato un progetto, gli ha detto che avrebbe voluto inserire questo personaggio all'interno della versione animata e lui si è domandato che effetto potesse avere sul pubblico, l'ha modificata leggermente in base al suo volere, in base a quello che riteneva più giusto essere la caratterizzazione fisica di questo personaggio che diventerà importantissimo nella serie e l'ha serializzato insieme a tutti gli altri demoni. Questo e tanti altri aspetti vengono approfonditi magistralmente all'interno di questo titolo, quindi per tutti gli appassionati di Devilman, secondo me è un titolo che magari non ha cofanetto se non volete spendere 35,70 euro tutti insieme, ma almeno con i volumi singoli ci penserei e proverei magari a dargli una possibilità e a recuperarlo. Poi andiamo avanti, in realtà c'è un altro cofanetto ed è quello di Another, edito da Star Comics in questa new edition. Il cofanetto è veramente molto molto bello, anche l'edizione che troviamo all'interno con le cartoline merita tantissimo. La storia secondo me è un pochettino meno, infatti non ho trovato quelle aspettative che mi ero fatto, non sono state rispettate in pieno. Infatti, non lo so, tutti lo dicevano, lo definivano come uno dei migliori manga horror di sempre, intanto vi mostro i volumi contenuti all'interno, il volume 0 vi ricordo che era un'esclusiva di questo cofanetto, ma fatto sta che a livello di horror non mi ha entusiasmato così tanto. Sicuramente quando si va a scomodare autori come Junji Ito, Kazuma, andiamo poi a parlare di tutt'altro livello rispetto a questa serie. Acquistatelo magari più per collezionismo, perché il cofanetto è bello, l'edizione è bella, ma non partite secondo me con delle aspettative altissime, perché non le ho, secondo me, non saranno rispettate al 100%. Poi proseguiamo con un'altra invece New Edition, stavolta abbiamo Die, la grande avventura, il numero 1, e a parte il formato che rispetto a una classica, diciamo Perfect Edition, è completamente diverso, è molto più alto ed anche leggermente più largo, come possiamo vedere, quindi in libreria ci sta malissimo, ma tralasciamo questo, è comunque leggibilissimo, è fatta molto bene a livello di materiali, la storia di per sé, anche in questo caso, non è riuscita a prendermi al 100%, probabilmente perché lo sto leggendo nel 2021, non metto in dubbio che gli argomenti trattati all'interno, anche se siamo soltanto all'inizio, quando è stato edito per la prima volta, fossero, non dico innovativi, ma comunque che prendessero tantissimo il pubblico e tantissimo i lettori. Fatemi sapere voi perché mi sta succedendo questo, se effettivamente perché lo sto leggendo tardi, oppure magari perché per i miei gusti personali non lo sto riuscendo a comprendere appieno. Ci sta anche questo senza ombra di dubbio, ma lo voglio andare avanti, lo voglio portare a termine, perché essendo uno dei pilastri, diciamo, dello shonen manga, mi fa veramente piacere andare a leggerlo e completarlo ed averlo in collezione. Andiamo avanti, abbiamo gli ultimi tre titoli, e iniziamo con School Live, edito da Goen, con una copertina, ragazzi, veramente fighissima, ci sono degli effetti, non so se si capisce, tutti sbrilluccicanti, e questo gli ha fatto guadagnare un sacco di punti, ma io allora, sono usciti tanti titoli di Goen, e io ho preso solo questo, ma la maggior parte ho visto che hanno queste copertine qua, quindi Goen si sta smuovendo abbastanza bene, sia come annunci, ma sia anche proprio come qualità dei formati e dei volumi che ci porta, quindi complimenti. Per quanto riguarda la storia di per sé, deve ancora partire al 100%, ci troviamo all'interno di una scuola e vediamo che c'è un gruppo di ragazze, tre ragazze, di cui due sanno della reale esistenza, di quello che si cela all'interno di quella scuola, ovvero, una delle tante cose che ci viene mostrata, i club sportivi, che sono composti praticamente da zombie, noi li vediamo tramite gli occhi delle protagoniste, che sono una marea di zombie, che corrono, si muovono, eccetera eccetera, e questa scuola porterà al suo interno sicuramente anche tantissimi altri mistero che pian piano, credo che verranno svelati uno dopo l'altro. Poi, ultimi due titoli, abbiamo Dust8, facente parte della Osamushi Collection, un volume che ho trovato veramente stupendo, ragazzi, magari se volete approcciarvi con un volume unico a Osamotezuka, all'Osamushi, questa potrebbe essere una buona idea, non è pesantissimo da leggere, ma ci sono dei contenuti al suo interno che spiccano e fanno vedere l'abilità di Tezuka a raccontare determinati argomenti. La trama potrebbe sembrare anzi abbastanza banale, c'è un aereo che si va a schiantare, muoiono tutti tranne otto passeggeri che rimangono in vita solo ed esclusivamente grazie a delle pietroline provenienti da un monte sacro, un monte della vita, che gli dona appunto la capacità di non morire finché hanno con loro queste pietre. Due extraterrestri si impossesseranno del corpo di altri due passeggeri di quel volo deceduti e daranno la caccia a queste otto persone per riprendersi le pietre e riportarle nel loro mondo e al loro posto. Ma la cosa principale che viene descritta in questo manga è lo stato d'animo che provano le otto persone appena prima di morire, quando si rendono conto che la persona che si trovano davanti è lì per riprendersi la pietra e di conseguenza porre fine alla loro vita. Ognuno di loro avrà una reazione diversa, ognuno di loro farà emergere quelli che sono i suoi desideri più reconditi all'interno del loro animo e quindi tutto questo viene descritto in maniera magistrale da parte del dio dei manga e quindi è un volume che secondo me merita tantissimo l'acquisto. Concludiamo con un altro maestro del manga anche se qua lo troviamo soltanto ai disegni, ovvero Kazuo Kamimura con Cannibale scritto invece da Yuaku. Cannibale ci porta nel mondo dello spettacolo e ci fa capire quanto può essere crudo e duro il mondo dello spettacolo e la scalata verso il successo in quest'ambito. C'è la nostra protagonista che vuole a tutti i costi raggiungere la vetta, vuole diventare una star, vuole diventare famosa in tutto il mondo e per fare ciò, per arrivare al suo obiettivo, non si fermerà davanti a nulla. Si metterà contro chiunque dai personaggi più di spicco del mondo dello spettacolo in quel preciso momento addirittura fino ad arrivare al suo migliore amico, colui che ha amato, colui con cui è stata, ha giaciuto per la prima volta e tutto questo per riuscire a raggiungere appunto il suo unico ed enorme scopo. Un volume che tratta delle tematiche particolari ma secondo me anche attuali sotto certi punti di vista. Caparbietà, convinzione saranno alla base di tutte le azioni che compierà la nostra protagonista ma non sempre riusciranno ad avere una giusta motivazione o comunque corretta più che giusta diciamo e tutto questo poi ognuno di noi andrà a percepirlo in maniera diversa cercare di capire se ha fatto bene o se ha fatto male a compiere determinate azioni. Anche questo un volume molto particolare ma anche straconsigliato. E io con questo ragazzi ho concluso fatemi sapere se qualcuno di voi ha letto uno di questi titoli di cui abbiamo parlato oggi fatemi sapere cosa ne pensate se avete qualcosa da aggiungere a quello che ho detto io sono ben felice di sentirvi e di leggere i vostri commenti detto questo vi chiedo soltanto di lasciare un bel like iscrivervi al canale e di seguirmi sugli altri social che trovate qua sotto in descrizione. Io vi ringrazio di cuore per la visione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti e una buona serata.